Quanto è importante recuperarla quella fiducia? Intanto devo dire però, come è buona notizia, che Pfizer-BioNTech ha deciso di aumentare le dosi che verranno mandate in Europa e in particolare all'Italia. Non so se proprio in occasione del fatto che diminuiscono quelle di AstraZeneca, questa è una prima buona notizia. Secondo, noi dovremmo lanciare delle campagne di informazione trasparente ed onesta a tutti i cittadini per invitarli a vaccinarsi perché l'unica alternativa a questa terribile diffusione del virus è la vaccinazione, non c'è ombra di dubbio. Però a parte il primo giorno, il famoso 27 dicembre, dove c'è stata forse anche una eccessiva spettacolarizzazione dei vaccini che partivano nei camion dal Belgio, poi non c'è stata una capillare informazione da parte del mondo istituzionale per cercare di far capire che il vaccino è fondamentale. Le faccio vedere un sondaggio, ieri sera di martedì l'abbiamo guardato e ci ha fatto interrogare sulla questione. Se me lo mettete qui vicino a me, perché se no essendo ciecata non lo vedo, eccolo qua. Farebbe il vaccino, ma non AstraZeneca, il 44%? Cioè, mi vaccino, ma se a AstraZeneca non mi vaccino. Farebbe il primo vaccino disponibile anche a AstraZeneca, questa è la posizione Orsinger-Panella, 29%, non farebbe in ogni caso il vaccino 13%, non sa, non indica. Dice Morrone per Enzo, è necessaria una campagna di sensibilizzazione. Io notavo che...